Pescara-Palazzi dritti verso il Sì. L'entourage biancazzurro è pronto a regalare a Zdenek-Zeman un ottimo prospetto che nell'ultima stagione si è molto ben comportato, giocando oltre 30 partite con una rete all'attivo con la maglia della Provercelli. Classe 96 Andrea Palazzi è di proprietà dell'Inter e nel centrocampo del Boemo sarebbe una delle due mezze ali. Il giocatore dovrebbe arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto per il Pescara, diritto che diventa obbligo in caso di pronto ritorno in Serie A del Delfino. Quella di ieri pomeriggio però è stata una giornata saliente per il presidente Sebastiani e il DS Leone per le vicende Gans e Colibali. Nell'incontro avuto a Milano con la Juventus sono stati questi i temi principali. Simone Andrea Gans vuole approdare in rival adriatico la formula migliore per il Pescara e quella del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A, ma la Juventus vuole cedere il figlio d'arte a titolo definitivo. La volontà del calciatore di giocare alla corte di Zeman è determinante e per qualsiasi definizione bisognerà comunque attendere la fine della prossima settimana, poiché l'Ellas Verona ha un diritto di opzione da poter esercitare. In quel caso la Juventus andrebbe con la controopzione per poi dirottare Gans in biancazzurro. Situazione interlocutoria per Mamadou Colibali. Sì, c'è una notevole distanza tra l'offerta della Juventus, un milione di euro, e le pretese del Pescara, 4 milioni. Ci si riaggiornerà col presidente Sebastiani che nel frattempo ascolterà altre offerte, mentre la Juventus potrebbe a sua volta inserire alcune contropartite tecniche. Quella che interessa di più è la mezzala Mattia Vitale, ex lanciano, nell'ultimo anno a Cesena. Rispetto a quanto vi abbiamo riferito ieri, strada sempre più in discesa con l'Atalanta per i prestiti degli attaccanti esterni Cristian Capone e l'ivoriano Emmanuel Lattelat. Mentre l'Inter, con cui è in piedi l'operazione Palazzi, sembra indirizzata verso il no al prestito del terzino della primavera Federico Vaglietti. Continuano i sondaggi dall'estero per il capitano Leydian Memushai. Dopo gli svizzeri del Sion hanno chiesto informazioni anche i francesi dell'Ile, ma l'addio del centrocampista albanese è tutt'altro che scontato.